Come è l'intelligenza artificiale? Di imparare da quello che succede, di imparare da quello che vedono, di imparare da quello che ascoltano, quindi computer dove non più io programmatore scrivo esattamente quello che il computer deve fare, ma una macchina che è in grado di imparare dall'esperienza, dai dati, da quello che accade, intelligente come noi siamo intelligenti, è un'intelligenza tutta diversa dalla nostra ovviamente, però è comunque una forma di intelligenza che ci può aiutare a vivere meglio. Grazie 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 Grazie